Ciao ragazzi, sono Chiara, sono una biologa marina e vengo da Bologna ed eccomi qui a SHARM proprio perché è estremamente importante per la mia carriera acquisire la certificazione di Dive Master. Perché ho scelto il camel su decine e decine di diving che potete trovare qui. Cercavo un diving che fosse serio, professionale, che seguisse esattamente gli standard e una cosa che mi ha affascinato molto dei ragazzi che sono molto attenti all'ambiente. Un altro plus che potrei dire del camel è la sua internazionalità. Ciao! Ciao, siamo la famiglia Dature, Francesca, Lupo e Marco. Andiamo a SHARM da circa 20 anni. Gli ultimi 10 siamo stati al camel. Gestendo scopaporta l'ho avuto modo di provare tantissimi diving, ma in assoluto il camel è il numero uno. Ho imparato a notare nella piscina del camel quando avevo cinque mesi. E tra poco ci torno a prendere il primo brevetto. Il camel è il tempio della subacquea a SHARM, una destinazione che consiglio a tutti gli amici sub e a chi vuole cominciare. Ci vediamo presto camel! Ciao! Ciao! Ciao, sono Giulia, sono una psicologa e vengo dalla provincia di Monzebrianza. Sono venuta per la prima volta SHARM e SHAKE l'anno scorso, quindi un anno fa, a fare immersioni col camel e poi sono tornata a Natale, Pasqua e anche quest'anno eccomi qua. Perché il camel? Credo che il loro punto di forza sia proprio quello di riuscire a creare un'atmosfera conviviale. è possibile infatti conoscere un sacco di persone, sia stranieri ma anche italiani. e poi anche lo staff del camel comunque ti aiuta anche un po' con un sorriso, la simpatia a farti star bene e quindi poi li spingono anche a tornare. Quindi scegliete il camel perché ne vale davvero la pena. Il mio nome è Matteo Chiavella, sono un chirurgo oculista. Ho cominciato a fare diving tardi. Poi ho scoperto SHARM. Il camel è il centro che io ritengo il migliore in assoluto perché ho trovato professionalità, controllo su tutto, sicurezza e quasi è un paragone che io faccio tutti i giorni nella mia sala operatoria. Quindi vi raccomando venite a SHARM, vi divertirete tantissimo. Amo i pesci, sto sott'acqua con centinaia di pesci tutti i giorni e sarà stupido ma questo mi rende felice. Ciao ragazzi, sono Giorgia, ho 20 anni. Oggi sono qui dalle sponde di Caponoli per raccontarvi che la mia prima esperienza al camel dive club è stata nel 2013, nonché il mio primo viaggio subacqueo. Quindi per questo non posso far altro che ringraziare la professionalità del camel e soprattutto la passione che è riuscita a trasmettermi nel fare la subacquea. Io ho iniziato che ero una bambina e tra poche settimane tornerò lì con il mio amoroso. Quindi un bacio grande a tutti quanti, ci vediamo presto al camel ovviamente. Ciao, io mi chiamo Giuseppe, abito a Sorso, un paese vicino al mare in Sardegna. Sono stato al camel dive e mi sono trovato veramente bene. Io sono un ragazzo in carrozzina, ho avuto un incidente molto quando avevo 16 anni, ora ne ho 43. Ho praticato molti sport, tantissimi, però questa esperienza vissuta al camel dive è stata qualcosa di più forte, qualcosa di più importante. E pertanto io invito tanti altri ragazzi che si trovano nella mia condizione, l'invito a provare, andare al camel dive perché le persone che appartengono al camel dive sono gentili, professionali, sanno fare il loro mestiere, ti sanno mettere a proprio agio. Ciao a tutti, siamo alla famiglia Arpiani e ci troviamo qua nel cuore di Sharma al camel diving. E ormai sono 7 anni, a parte quando arrivo il pancione, che vediamo qua da loro. Al camel devi solo pensare a guardare e a emozionarti nel silenzio del mare. E quest'anno ancora di più comunque un bambino di 5 anni hanno dimostrato di essere eccellenti. Il marito è venuto con me in barca insieme a Andrea e insieme alla vuda del camel Andrea ha fatto snorkeling e ha imparato mille cose. Quale che è? Nemo! Nemo! Le ha viste tutti, le ha viste. E ci siamo trovati sotto l'aquila di mare. Di me. L'unico pensiero che avrete, che poi non è un pensiero, è quello di andare sott'acqua a divertirvi. Baccio! Ciao!